2024 elezioni amministrative a Subbiano e in questo caso Mirella Ricci decide di candidarsi. Quali sono le motivazioni proprio che hanno portato Mirella Ricci a questa candidatura? Ma intanto le motivazioni è che un gruppo di persone mi hanno spinto ma anche ho condiviso quest'idea e ci hanno guidato tre parole chiave nel nostro pensiero vedendo questo comune, come è ora, quali prospettive potrebbe avere, quali contributi possiamo dare, posso dare io ma con altre persone che davvero si spenderanno senza riserve ma anche con passione e facendo qualcosa di innovativo se è possibile ma anche davvero ridare speranza, forza e quello che si merita a questo comune. Le nostre parole chiave sono queste, coraggio perché ci vuole coraggio e lo abbiamo imparato da chi tutti i giorni con coraggio affronta tutte le problematiche quotidiane, quindi questo per noi è una grande lezione di vita e la porteremo avanti con coraggio e con forza. Secondo concretezza, concretezza perché? Perché le idee se non camminano con le gambe degli uomini e anche con la testa degli uomini sono idee che diventano frustrazioni, invece noi le idee che abbiamo le vogliamo realizzare tutte. Terza innovazione, perché noi diciamo che i giovani sono il nostro futuro, no, i giovani sono il nostro presente e insieme a loro vogliamo fare cose innovative che permettano a loro di avere delle chance anche in un piccolo comune senza dimenticare gli anziani. Quindi, piedi ben piantati in terra dove sono le nostre radici profonde della nostra storia e lo sguardo dritto, dritto verso il futuro sapendo che sarà dura ma ce la metteremo tutte. Il Rallarici sarà sostenuto da forze politiche o invece una lista veramente civica e trasversata? Ma io penso, allora, sicuramente ognuno di noi ha un'idea ben precisa e la esprimerà a livello nazionale, la politica si fa quotidianamente, non so se quelli che sono con me non sono iscritti a nessun partito, questo è vero, ognuno di noi ha una sua storia, che non rinnega perché è quello il bello di vedere il futuro, quindi è una lista civica, davvero civica, perché l'intelligenza è trasversale, ma anche la stupidità è trasversale, poi a livello locale conta quello che sei, quello che è la tua storia, quello che puoi fare per questo paese, come puoi contribuire davvero a rendere migliore la vita di tutti.